buonasera rino e benvenuto a senza appello buonasera luigi la prima azione della serata è un'azione a tre tocchi tre domande in tre minuti la prima parola è questa regina cosa ti ricorda è vero che ce l'avevi appesa nello spogliatoio dei glesgova ranger no ma se ne è parlato tantissimo però facevo l'ognorlo no facevo finta perché loro mi prendevano in giro per per il papa no io giocavo nei rangers era una squadra di religione protestante devo dire che ogni volta mi toccavano il papa e io per per scherzo sistematicamente tutti i giorni con un pallone cercavo di farla cadere perché c'era il quadro attaccato dentro lo spogliatoio e loro si arrabbiavano molto la seconda parola è mondiale siamo quasi a dieci anni dal trionfo di berlino che cos'è oggi per te il ricordo di quell'avventura cosa ti viene in mente se ripensi a quel mondiale ma è un'esperienza fantastica un qualcosa io ho sempre sognato di partecipare a un mondiale ho avuto la fortuna di farne tre ma con il pensiero con la testa non ho mai non c'ero mai arrivato di poter vincere un mondiale ma nemmeno col pensiero ho avuto la fortuna di vincerlo e devo dire che tutto quello che è successo tutte le le buone sensazioni tutte le cose fantastiche che quel periodo sono successe ritengo come in modo molto geloso mi ricordo una frase molto onesta che tu dicesti avremmo potuto perdere tutte le partite di quel mondiale invece abbiamo vinto il mondiale perché lo abbiamo vinto non eravamo i più forti ma per vincere la mia storia mi ha insegnato che è un pizzico di fortuna ci vuole sempre però quella squadra non era la più forte sicuramente però aveva un contottiere che era il nostro annatore marcello lippi aveva aveva dei giocatori che avevano una rabbia in corpo incredibile eravamo un gruppo gruppo affiatato e che penso che la differenza l'ha fatta la rabbia e la voglia di saper stare insieme è vero che combattevi l'insonnia con un cubetto di ghiaccio ma questa è durata per tantissimi anni ero uno che sentiva molto le partite in camera per fortuna ho sempre chiesto sia la federazione che al milan di stare di stare da solo perché vivevo le partite in modo molto a modo mio il cubetto di ghiaccio era un compagno che la notte mi faceva compagnia non diciamo dove insomma va bene lasciamo stare l'ultima parola scorfano tu hai portato il mare a gallarate sei un imprenditore ittico cucini anche lo scorfano provate a cucinarlo ma devo dire che me lo sfiletta sempre i miei due pesci vendoli perché ha delle spine che ancora non riesco a capire non prese non ci ho preso le misure devo dire che però è un buon pesce è un pesce che quando lo usi per la zuppa ti dà delle grandissime soddisfazioni però ahimè tuttora quando voglio sfilettarlo ce l'ha sempre la meglio ce l'ha sempre lo scorfano però insomma in fondo lo scorfano è il mediano dei pesci non si presenta male ma non si vince se in una squadra non c'è un buon mediano non so se mi stai facendo un complimento però però sicuramente è uno che a tavola si fa apprezzare